Siamo qui con Luca Matassino, responsabile commerciale Banche Reti di Eurovita, al quale vogliamo chiedere quali le prospettive per questo 2020 nei mercati finanziari. Innanzitutto buongiorno, il 2020 sicuramente si apre con qualche tensione data dall'emergenza sanitaria, però diciamo che gli altri temi sono più o meno gli stessi che si sono avuti negli ultimi mesi del 2019, quindi una situazione che a livello geopolitico magari può essere preoccupante e quindi una propensione all'avversione al rischio da parte dei risparmiatori, tanto eccesso di liquidità oggi presente sul mercato. Allora noi su questo dobbiamo lavorare, devo dire che per noi è un buon segnale perché il contenitore assicurativo dà proprio molte risposte a queste esigenze e quindi c'è la possibilità di avere sia da un lato coperto il bisogno di protezione sia anche la possibilità di usufruire dei vantaggi del contenitore assicurativo quindi di carattere di efficienza fiscale e anche di tutela patrimoniale. Ecco su questi temi confermiamo il nostro focus, c'è da dire che a questi avviciniamo anche temi di carattere di investimento quali ad esempio quello della sostenibilità. Ecco proprio sul tema della sostenibilità, come Eurovita si sta affacciando anche a livello commerciale? Eurovita nasce da un progetto di consolidamento di compagnie assicurative, una di queste è stata piena proprio nelle unit link e quindi nella costruzione di piattaforme aperte con fondi specializzati. Noi proprio per questo diciamo che la sostenibilità non solo ci lavoriamo da tanto tempo ma è un tema fondamentale, noi abbiamo sia fondi a piattaforma aperta, gestiamo anche dei fondi interni assicurativi dedicati al mondo della sostenibilità e lavoriamo anche in collaborazione per la costruzione di prodotti dedicati proprio che investano prevalentemente su questo tema. Ecco la sfida per il futuro sarà proprio quella di capire come si sviluppano questi temi e quindi laddove noi non possiamo arrivare per la nostra competenza ci avveleremo sicuramente di collaborazioni sempre più stringenti con partner specializzati proprio per la costruzione di portafogli a cui delegare appunto parte del portafoglio di investimento. Anche su questo vogliamo essere pionieri, vogliamo essere i primi. Grazie.